Rebus Sittantibus alle ore 7, io accetto le operazioni varie che possono appunto far tesoro non solo del bene mio ma anche le operazioni quali che siano appunto sul mio corpo per cercare di salvare questa vita per salvare la vita di quegli altri migliaia e migliaia e forse milioni di persone che nel momento in cui passava da me se stanno i pollici adesso lasco altri, vi rispetto e io quindi adesso accetto questo tutto necessario l'intervento chirurgico sarebbe informato perché l'ho usato se bevendo o usando un pezzo al mio corpo disponibile riusciamo a salvare la baracca per la linea uscita dell'interruzione della criminalità flagranza, nazista, sole, l'istato italiano per andare volte verso il diritto, la legge e magari le beatitudini augurio a tutti augurio a tutti ah si, 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 posso raggiungerci un po' si, esatto, ah eh, eh, eh fate qui ho magari la risposta tecnica di quello che ha detto è